Ragazzi come va? Faccio queste storie perché ci tenevo a condividere con voi una cosa. Immagino, come tanti di voi, sto seguendo le tragiche vicende che si stanno susseguendo in questo momento nella striscia di Gaza. Chi mi segue da tanti anni sa benissimo qual è il mio pensiero in merito, però non voglio accodarmi al coro delle tifoserie in questo momento perché non credo restituiscano nulla di costruttivo al dibattito, anzi credo siano delle strategie che abbiano fatto, anzi abbastanza danni, rivelate abbastanza distruttive in questi decenni. Credo però che ci siano delle persone che riescono meglio di altre a farci sentire vicino a un problema anche se molto distante da noi. E quindi volevo presentarvi, per chi non la conoscesse, la persona che mi ha, quando ero adolescente, aperto gli occhi e spronato ad interessarmi su questo argomento quando ero però appunto molto giovane. Questa persona è un giovane cronista italiano, attivista, che si chiama Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni è, anzi era, un giovane cronista italiano, tra l'altro è stato iscritto ad una riscausa tra i cronisti italiani proprio in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa. Lui per anni è stato un attivista nella striscia di Gaza, aiutava i civili e cercava di raccontare quello che avveniva sul territorio. Purtroppo è stato poi rapito e brutalmente ucciso in circostanze che non sono mai state chiarite del tutto. Lascio il link del primissimo video che vidi di Vittorio Arrigoni dove cercò di aprire un civile sano dibattito con i giornalisti italiani. Dibattito che non si aprì mai anche per la sua prematura morte purtroppo. Bisogna accedere perché ci sono i limiti di età. Trovo assai più utile cercare di dare eco e risalto ad una voce come quella di Vittorio Arrigoni, un italiano che in prima lidia sul campo ha cercato di aiutare dei civili in una situazione di guerra al punto di arrivare a sacrificare la propria vita per questo. Piuttosto che dare la mia sterile opinione che lascia il tempo che trovo in una situazione assai complessa. E' ovvio che davanti alle immagini di bambini arrestati, di bambini uccisi, viene da fare tutti un passo indietro e chiedersi ma è veramente necessario tutto questo? Verrebbe anche da chiedersi qual è la posizione del governo italiano, del governo che ci rappresenta davanti all'uccisione di bambini. Questo forse ve lo chiederei. Grazie a tutti.